Buonasera a tutti e prima di introdurre Angela Montanari che sarà la relatrice della presentazione di stasera presento me stessa tanto per dare un senso al fatto che io introduca Angela Montanari. Io mi chiamo Giovanna Sartori, sono matematica e per tutta la mia vita lavorativa da ricercatrice in un centro di ricerca navale mi sono occupata soprattutto di sistemi software rinnovativi. Quindi fin dagli anni 90 mi sono occupata fra tutti gli altri campi, quindi realtà virtuale, sistemi esperti, reti neurali, anche di intelligenza artificiale. Ovviamente intelligenza artificiale dagli anni 90 che era un qualche cosa che sarebbe stata utilizzata dalla cantieristica e dalla gestione della nave proprio come sistema di supporto alle decisioni. Adesso mi sembra che sia diventata molto di più e molto diverso ma come sistema di supporto alle decisioni avrebbe sfruttato la potenza dei dati raccolti sulle varie attività quindi l'operatività della nave ma anche la manutenzione, anche la manovra per aiutare l'uomo a prendere delle decisioni più corrette. Poi dopo la fine della mia attività lavorativa mi sono occupata invece di riduzione dei rifiuti che non c'entra niente quindi voglio dire è una cosa che ho fatto autonomamente fondando una mia associazione che si chiama Il Verde che si occupa di riuso principalmente e di economia circolare e poi anche come cofondatrice dell'Ecoistituto. Quindi evidentemente queste due competenze messe insieme mi hanno reso diciamo adatta a presentare questa cosa. Angela Montanari, lo leggo perché mi sono presa l'appunto, non voglio sbagliare, è chimica ed è stata responsabile del Dipartimento Imballaggi della SSICA che è un ente di ricerca pubblico quindi è una mia collega ricercatrice in qualche modo dove è stata coordinatrice scientifica fino al 2023. Poi ha fondato ed è la CEO di una start-up che si chiama Toma Paint che produce una vernice da scarti dell'industria del pomodoro e si occupa di materiale e coating per prodotti alimentari e per i quali dettiene diversi brevetti. Quindi stasera ci presenterà la sua esperienza teorica e pratica su questi argomenti. Adesso io voglio fare una piccolissima chiosa che ho già fatto in un'altra relazione proprio sulla terminologia. Io mi sono occupata di intelligenza artificiale e di sistemi esperti. Ho capito che nessuno sa cosa vogliono dire perché quando queste parole, queste frasi, queste locuzioni entrano fortemente nella lingua italiana, nel lessico, negli articoli del giornale vengono assimilati senza veramente capirne il significato. Quindi se si chiede a 100 persone che cos'è l'intelligenza artificiale oppure cosa sono i sistemi esperti, ognuno darà una propria interpretazione, a volte anche molto fantasiosa. Quindi secondo me queste presentazioni servono anche un po' per chiarire che cosa veramente vogliono dire queste cose, come siano collegate, perché ovviamente sono due campi diversi che però ovviamente interagiscono e diciamo soprattutto dall'esperienza di una persona che l'economia circolare la applica nella sua attività e l'intelligenza artificiale la usa per prendere le decisioni migliori di economia circolare. Quindi ho la parola Angela Montanari, la quale, se ho dimenticato qualcosa, integrerà questa mia presentazione con le informazioni corrette. Prego. Grazie, no, grazie della presentazione direi che è assolutamente completa. Quindi buon pomeriggio a tutti. L'argomento della mia relazione, intanto condivido lo schermo, è la relazione tra economia circolare e intelligenza artificiale. Nella mia, come già accennava Giovanna, io partirò dalla mia esperienza di applicazione dell'economia circolare, in particolare sia nell'attività di ricerca che nell'attività adesso imprenditoriale, tra virgolette, e poi passerò a illustrare alcuni esempi di applicazione dell'intelligenza artificiale all'economia circolare e appunto al processo che noi facciamo come azienda. Brevemente, insomma, una introduzione sul significato di economia circolare, economia lineare. Oggi, nonostante viviamo su un pianeta che ha risorse, scusate, ha risorse limitate, comunque continuiamo ad utilizzare un'economia basata sulla economia, un modello economico basato sull'economia lineare che ormai riteniamo tutti sia insostenibile in quanto incoraggia l'uso improprio, il consumo di risorse naturali e produce una grande quantità di rifiuti e ovviamente un danno all'ambiente. L'economia circolare è alternativa all'economia lineare, quindi è un'economia riparativa, sostenibile, rigenerativa e ormai, insomma, da diversi anni sta diffondendosi, anche se in alcuni campi, come quello della bioeconomia, insomma, la sua applicazione concreta è ancora abbastanza difficile perché ci sono molti ostacoli che sono da una parte legati al basso valore, insomma, dei prodotti usati e dall'altro anche a posti elevati e anche difficoltà tecniche. Nell'economia circolare uno dei fattori chiave è la supply chain, cioè tutta la catena di fornitura deve rispondere ai criteri di economia circolare perché possa effettivamente dare risultati positivi. Le definizioni di economia circolare sono diverse, una delle definizioni che utilizza anche la Commissione europea è il fatto che l'economia circolare valorizza tutti i prodotti in tutta la sua vita, quindi a partire dall'estrazione della produzione ed è organizzata in modo che i rifiuti di qualcuno diventino poi risorse per qualcun altro ed è rappresentata appunto da questo cerchio che ritorna su se stesso in cui lo smaltimento come rifiuto avviene solo dopo diversi cicli di utilizzo. L'economia circolare rappresentata da un cerchio, come dice la parola, l'economia lineare invece è rappresentata da una linea in cui appunto dall'estrazione attraverso la produzione e il consumo si arriva allo smaltimento. L'economia circolare è un'economia collaborativa che comunque rappresenta anche un valore economico. Ho trovato appunto dei dati che parlano di 2.000 miliardi all'anno con la creazione di 22 milioni di posti di lavoro in Europa. La transizione, il passaggio dall'economia circolare all'economia lineare implica non soltanto dei cambiamenti che non sono solo legati alla riduzione degli effetti negativi dei rifiuti ma implica proprio, richiede cambiamenti nelle infrastrutture che sono abbastanza complesse per aumentare quindi la resilienza a tempi lunghi anche per fornire delle opportunità, offrire dei vantaggi sia economici che ambientali. E vengono riportati degli indicatori che indicano quanto, che possono darci un'indicazione di quanto ci stiamo spostando verso l'economia circolare. sono indicatori quali la quantità di prodotti circolari, la ottimizzazione delle infrastrutture, il comportamento dei consumatori e gli investimenti. A questo punto vorrei parlare dell'applicazione dell'economia circolare alla tema degli imballaggi. Gli imballaggi costituiscono oltre la metà dei rifiuti che produciamo. Il 95% del valore degli imballaggi viene perso dopo un breve uso. La maggior parte degli imballaggi non viene recuperata, non viene riciclata e quindi viene consumata in breve tempo. In particolare, poi mi riferisco agli imballaggi di plastica che utilizziamo in grandi quantità e che rappresentano il 42% dei rifiuti di plastica. Sappiamo che la plastica viene usata largamente nella produzione di imballaggio per alcune proprietà che sono sue caratteristiche peculiari che rendono favorevole il rapporto costi-performance. In particolare, nel caso degli imballaggi, parliamo di proprietà come le barriere ai gas, all'umidità, all'ossigeno, parliamo del fatto che i costi di produzione sono abbastanza contenuti perché gli investimenti per le linee di produzione sono relativamente bassi ed è possibile lavorare in modo relativamente semplice questi materiali. Ovviamente l'effetto negativo è che a fronte di queste buone proprietà consumiamo delle fonti non rinnovabili, delle fonti fossili, produciamo rifiuti, la produzione di plastica determina una grande emissione di ammendita carbonica e da ultimo, come sappiamo, produciamo anche inquinamento da microplastiche. e questa immagine si riferisce a una delle tante isole di plastica che si trovano negli oceani. Ogni anno circa 300 milioni di tonnellate di plastica vengono prodotte a livello globale e di queste solo il 30% viene riciclato. Questo perché le plastiche che vengono utilizzate in particolare per gli imballaggi non sono mai costituite da un unico materiale ma sempre da accoppiamento di materiali diversi che non si possono separare e che quindi non possono essere riciclati. Queste grandi quantità di rifiuti per un effetto fisico nel tempo determinano la produzione di microplastiche e nanoplastiche che poi entrano nel ciclo alimentare. Il problema dell'inquinamento nel microplastico è non solo dovuto appunto alla presenza delle microplastiche in sé ma anche al fatto che le plastiche contengono degli additivi che vengono rilasciati nell'ambiente, nel mare, nel suolo nel momento in cui si abbandonano i rifiuti di plastica. Si tratta di molecole spesso cancerogene comunque interferenti e endogeni molto endocridi molto persistenti come gli idrocarburi policiclici aromatici bispenolo A, i famosi FAS che sono molecole che vengono usate come additive per conferire alla plastica determinate proprietà quindi l'effetto dell'inquinamento è doppio. Quali possono essere le soluzioni? Quali soluzioni si possono trovare all'uso della plastica per ridurre l'impiego della plastica nel settore degli imballaggi? Una prima soluzione è quella di poterle riciclare ma come dicevo prima per riciclare è necessario comunque cambiare la composizione dei materiali plastici passando dai multimateriali ai monomateriali. Questa è una soluzione che consente poi di riciclare la materia plastica. L'altra soluzione che conosciamo tutti è quella di utilizzare le bioplastiche quindi plastiche che derivano da fonti rinnovabili quindi da amidi, zuccheri, cellulosa che normalmente sono biodegradabili e compostabili. Ho riportato l'esempio dei piatti, delle borsine, delle posate che usiamo quotidianamente che ormai troviamo disponibili in tutti i supermercati. Il problema dell'uso delle bioplastiche a parte tecnologico perché comunque le proprietà che hanno non sono ancora paracomfrontabili con quelle delle plastiche sintetiche quindi non danno le stesse prestazioni delle plastiche sintetiche è che spesso per la loro produzione c'è una competizione con l'utilizzo del terreno per la produzione di alimenti e quindi la soluzione che si sta studiando, valutando e anche applicando negli ultimi anni è quella di utilizzare per la produzione di bioplastiche di utilizzare degli scarti alimentari in effetti ogni anno nel mondo si producono grandi quantità di scarti si spreca circa il 30% degli alimenti prodotti in Europa parliamo di circa 90 milioni di tonnellate all'anno di scarti che sono concentrati per lo più nella fase iniziale di produzione agricola e nella fase di trasformazione anche se in minore quantità e poi nella fase del consumatore è chiaro che è possibile andare a recuperare questi scarti per la produzione di materiale di bioplastiche nelle fasi iniziali non ancora nella fase finale dove lo spreco avviene da parte del consumatore come è possibile utilizzare gli scarti quindi valorizzare gli scarti nell'ottica appunto dell'economia circolare per produrre bioplastiche si seguono o comunque si stanno valutando si applicano alcune strategie la prima è quella di quando è possibile valorizzare direttamente lo scarto ad esempio è possibile utilizzare direttamente le pelli dei pesci di alcuni pesci per realizzare appunto o dei prodotti proprio alimentari direttamente oppure delle materiali delle bioplastiche la soluzione più ampiamente studiata è la realizzazione di bioraffinerie dove uno o più scarti agroalimentari vengono trattati per estrarre per ottenere molecole diverse che possono poi essere utilizzate per la produzione dei biopolimeri un'altra possibilità è quella di utilizzare gli scarti come alimentazione per inseppi o per microrganismi in modo che attraverso la formazione di larvi o attraverso la biofermentazione si producono appunto delle molecole come l'acido polilattico o il PHA che a sua volta viene utilizzato per produrre questi questi polimeri questi biopolimeri faccio un esempio che ho seguito insomma da vicino e abbiamo utilizzato come vedete in questa immagine abbiamo utilizzato gli scarti di legumi sono scarti che si generano nel momento in cui si preparano i surgelati o si preparano appunto le conserve di legumi in scatola quindi legumi come piselli come ceci lenticchie questi scarti sono comunque ricchi di proteine di fibre quindi abbiamo realizzato abbiamo anche brevettato un processo di estrazione in modo da ottenere da una parte le proteine che poi abbiamo utilizzato per la produzione di film come vedete in questa immagine di film plastici le fibre di cui appunto questi scarti sono ricche invece sono state separate utilizzate per rendere più resistenti meccanicamente plastiche come bioplastiche come il PLA e realizzare ad esempio questi vasi che possono essere contenere le piantine possono essere messe direttamente nel terreno in quanto biodegradabili un altro esempio è relativo all'utilizzo dei gusci dei gamberetti per estrarre da cui viene estratta una molecola il chitosano che ha da una parte buone proprietà filmogene quindi per realizzare dei film dei coating e dall'altra anche proprietà antimicrobiche e antiossidanti in questo caso ad esempio abbiamo usato il coating un coating a base di chitosano per rivestire i tartufi o per rivestire il pesce fresco in questo modo l'applicazione di questo coating al pesce fresco ha consentito di raddoppiare la vita tempo di vita del prodotto in questo modo riducendo fortemente gli scarti l'altro esempio è quello relativo appunto all'azienda che ho confondato nel 2019 Tomapent in cui utilizziamo degli scarti di sottoprodotti di lavorazione della industria del pomodoro per estrarre una bioresina che è la cutina dal punto di vista la cutina che poi può essere utilizzata in diverse applicazioni nel settore dell'imballaggio ma non solo in questa immagine vedete sulla destra un'immagine proprio della cutina che ha questo colore marroncino mentre sulla sinistra vedete un sistema di magazzinaggio diciamo di stoccaggio degli scarti del pomodoro in questo modo diciamo otteniamo valorizziamo dei sottoprodotti di lavorazione che altrimenti sarebbero utilizzati o per alimentazione animale o a volte anche dispersi nell'ambiente e dopo l'estrazione della nostra della resina le bucce di pomodoro vengono comunque utilizzate nella produzione di biogas quindi con un approccio abbastanza un approccio di economia circolare abbastanza completo il vantaggio dell'utilizzo degli scarti di pomodoro è che abbiamo grandi quantità di scarti concentrati in una zona molto limitata e quindi potremmo anche definirli come a chilometro zero ad esempio in Emilia Romagna nella zona tra Parma e Modena viene lavorato circa il 50% del pomodoro italiano e quindi sono prodotte all'incirca 70.000 tonnellati di scarti all'anno quindi abbastanza materia prima per estrarre la biorensina abbiamo il processo di estrazione del nostro processo di estrazione della biorensina è un processo green nel senso che non utilizziamo solventi organici ma solo solventi acquosi grazie a finanziamenti europei abbiamo realizzato costruito un impianto industriale con una capacità di circa 500 tonnellate all'anno di di cutina il il nostro processo è un processo industria 4.0 abbinato combinato con un sistema completo di monitoraggio del processo che utilizza l'intelligenza artificiale che poi vi riporterò come esempio il come dicevo la la resina che estraiamo dalle bucce di promodoro può avere diverse applicazioni sia nel settore degli imballaggi imballaggi metallici ma anche imballaggi di carta e nelle bioplastiche ma può avere anche applicazione nel settore della cosmetica o per la produzione di rossetti di ombretti di make up oppure nella cura del verde per esempio per la protezione dei campi del golf la nostra resina non si somma noi non creiamo un ulteriore imballaggio ma produciamo una resina che sostituisce quelle attualmente già in uso quindi i coating che attualmente vengono usati per la protezione del metallo per la protezione della carta che sono di plastica vengono sostituiti dalla nostra resina e in questo modo riduciamo fortemente l'impatto ambientale abbiamo calcolato che se in un anno utilizziamo 200 tonnellate di cutina in sostituzione di 200 tonnellate di una resina sintetica abbiamo risparmio di emissioni di anelide carbonica equivalenti alla piantumazione di circa 200.000 alberi che sono quelli che si ad esempio può contenere Central Park quindi un impatto significativo una riduzione dell'impatto ambientale decisamente significativo la nostra azienda è abbastanza giovane e pur rispondendo ai requisiti dell'economia circolare valorizzando scarti in questo momento in cui stiamo entrando sul mercato ci rendiamo conto che ci sono diverse barriere all'applicazione reale dell'economia circolare barriere legate ad aspetti tecnologici ad esempio nella realizzazione degli impianti perché non ci sono conoscenze acquisite su questi nuovi processi ma anche barriere legate alla legislazione che non rende così semplice l'utilizzo di scarti per l'impiego ad esempio nel settore dell'imballaggio della Cosmesi e poi ovviamente legati al prezzo perché i prodotti dell'economia circolare comunque sono più costosi ad oggi rispetto ai prodotti sintetici e le aziende diciamo che producono gli imballaggi non sono disponibili il consumatore probabilmente sì ma le aziende non sono disponibili a pagare di più quando se la legge non 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 li obbliga a farlo e quindi questo crea una grossa insomma rappresenta un ostacolo una barriera alla realizzazione concreta dell'economia circolare in questa tabella che ho ripreso da un articolo recente pubblicato su Sustainability di Patton si mettono a confronto i diciamo si confrontano i principi dell'economia lineare e dell'economia circolare nei loro diversi aspetti nelle diverse fasi del processo della vita di un di un prodotto e in pratica le differenze importanti sono legate alla prima fase di produzione quindi di approvvigionamento dei materiali che sono ovviamente che seguono principi diversi nel caso dell'economia lineare rispetto all'economia circolare l'economia lineare come dicevo adesso cerca di produrre il più possibile più rapidamente possibile a basso costo e quindi seleziona anche in questo modo i suoi fornitori l'economia circolare invece segue dei criteri di sostenibilità sia per quanto riguarda i materiali quindi sceglie e orientata la scelta di materiali che siano riciclabili che siano biodegradabili e allo stesso modo anche nei confronti dei dei fornitori un'altra differenza importante riguarda la progettazione degli oggetti dei prodotti delle merci che nel primo nel caso dell'economia lineare è focalizzata su oggetti che siano monouso come nel caso degli imballaggi abbiamo visto per lo più si utilizzano velocemente poi si smartiscono e invece l'economia circolare come proprio per definizione tende a cercare di mantenere più a lungo possibile la qualità del prodotto allo stesso modo tutto il sistema dei trasporti si differenzia per un orientamento alla sostenibilità nel caso dell'economia circolare e un altro aspetto importante che le differenzia è legato appunto alla comunicazione cioè l'economia lineare non non è interessata a relazioni tra le varie fasi della catena di approvvigionamento la catena produttiva mentre l'elemento chiave dell'economia circolare è proprio il dialogo tra i diversi attori della catena della catena di fornitura con la condivisione dei dati quindi richiede una collaborazione tra fornitori produttori e consumatori questi queste differenze sono importanti anche perché è proprio in nella nella possibilità di intervenire su questi aspetti più specifici dell'economia circolare che può ha un ruolo l'intelligenza artificiale sicuramente anche una prima fase di utilizzo della di nell'economia circolare è legata all'applicazione delle tecnologie digitali cioè l'economia circolare richiede la capacità di gestire grandi masse di informazioni ed è sicuramente quindi l'utilizzo di tecnologie digitali come il big data il blockchain piattaforme digitali online sono fondamentali per poter realizzare un'economia quindi sostenibile e inclusiva come l'economia circolare in particolare perché consentono di avere di acquisire dati informazioni e conoscenze sulla composizione dei prodotti sulle loro proprietà sulla loro origine sulla tracciabilità sui processi di produzione di smantellamento e di riciclaggio ed è proprio in questi ultimi anni insomma che anche gli studiosi si sono posti hanno esplorato la possibilità di integrare le tecnologie digitali con l'intelligenza artificiale nell'ambito dell'economia circolare per come dice e in un'applicazione che è molto simile a quella di cui parlava prima Giovanna cioè nella capacità dell'intelligenza artificiale di acquisire di imparare dai dati di migliorarsi in modo interattivo e quindi di consentire di arrivare a prendere delle decisioni cioè in un aspetto più arrivare ad una fase decisionale supportata appunto dalla intelligenza artificiale quindi ancora con una modalità non così attuale ma che consenta comunque di intervenire nel processo decisionale dell'economia circolare ho trovato un riferimento principale all'applicazione dell'intelligenza artificiale dell'intelligenza artificiale all'economia circolare nello studio del 2019 della fondazione L.M. Mancartur che appunto indagava come quanto l'intelligenza artificiale possa accelerare la transizione verso un modello di funzionamento di economia circolare questa ricerca si lo studio si focalizzava in particolare su due settori quello degli alimenti e le apparecchiature elettroniche però dava anche faceva anche un'analisi più generale sulle potenzialità di questa tecnologia per accelerare la transizione verso appunto l'economia circolare e prendeva in considerazione i tre nodi fondamentali che sono poi quegli stessi nodi che in alcuni altri lavori come dicevo prima costituiscono gli indicatori della transizione verso l'economia circolare e in particolare la progettazione circolare il funzionamento circolare dei modelli di business e l'ottimizzazione delle infrastrutture lo studio che ho visto viene citato moltissimo affronta anche gli aspetti economici e conferma appunto del valore dell'economia circolare al 2030 in termini circa di 2000 miliardi di euro e fa riferimento al settore cibo che può arrivare circa a 127 miliardi di dollari e 90 miliardi di dollari per l'elettronica di consumo quindi l'economia l'intelligenza artificiale può aiutare ad andare anche verso questi accelerare l'economia circolare per ottenere questi risultati anche economici brevemente come volevo accennare brevemente per ognuno di questi nodi per ognuno di questi punti al ruolo della intelligenza artificiale l'impatto ambientale di oltre l'80% dei prodotti così dice la commissione europea determinato in fase di progettazione quindi per una non corretta progettazione un corretto disegno di un prodotto nell'ottica dell'economia circolare deve tener conto della scelta dei materiali che siano riciclabili biodegradabili o rinnovabili deve immaginare e creare la modularità del prodotto in modo che sia facilmente smontabile e separabile in fase di riciclo deve anche pensare come possano essere riparabili i prodotti ecco questo approccio richiede l'acquisizione l'elaborazione la valutazione di grandi quantità di dati e l'intelligenza artificiale può proprio supportare queste decisioni perché può ad esempio nel caso della scelta dei materiali creare dei prototipi o simulare dei test rapidi in modo da consentire di scegliere il materiale più donio ad una certa applicazione senza necessariamente dover realizzare praticamente questi test le conoscenze i dati acquisiti sulle caratteristiche dei materiali sulle loro proprietà di tossicità di reciclo di recupero sulla possibilità di avere indicazioni sul materiale sostituitivo rispetto ad una determinata sostanza chimica sono tutti processi di progettazione interattivi che possono essere appunto supportati dall'intelligenza artificiale l'altro aspetto importante è il funzionamento circolare dei modelli di business che devono essere modelli di business che devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico ci sono diversi studi che riportano indicazioni di diversi modelli di funzionamento circolare dell'economia i principali sono sicuramente la filiera circolare un modello che si basa sulla filiera circolare quindi che mira a sostituire i prodotti tradizionali con prodotti che siano riciclabili o biodegradabili un altro modello è quello che si basa sull'estensione del ciclo di vita dei prodotti quindi un modello coerente con le esigenze di mantenimento della natura delle caratteristiche del prodotto il più a lungo possibile un'altra soluzione di modello di business circolare sono le piattaforme di condivisione che permettono di condividere l'utilizzo di un oggetto tra più persone e quindi di estenderne anche in questo caso l'impiego la trasformazione di beni servizi che si basa sulla logica del tutto compreso è un altro modello di business che consente anche in questo caso di attraverso la manutenzione la riparazione di estendere il fine vita di un prodotto e poi c'è il modello di business che è classico dell'economia circolare che è quello che si basa sul recupero e poi sul riciclo in cui appunto ogni prodotto ogni scarto diventa materia prima materia di partenza per un altro processo il ruolo dell'intelligenza artificiale è senz'altro fondamentale anche in questo aspetto nella definizione nell'accelerazione nella velocizzare l'implementazione di modelli di business circolari proprio perché può aiutare ad aumentare la circolazione dei prodotti l'utilizzo delle risorse e anche fare previsioni per esempio di prezzi o di domande della domanda del consumatore oppure sulla manutenzione predittiva questo è proprio un esempio tipico di applicazione dell'intelligenza artificiale è la possibilità di prevedere i guasti e quindi di intervenire e suggerire per proporre modifiche sostituzioni modifiche di alcuni componenti in modo da rendere il prodotto più adattabile quindi meno soggetto a guasti durante la sua vita l'altro punto fondamentale nell'analisi dell'economia circolare è l'ottimizzazione delle infrastrutture è chiaro che l'economia circolare mette in moto un insieme di infrastrutture per la per la logistica diretta ma anche per la logistica inversa per tutta la quindi la restituzione dei prodotti una volta nel caso del riciclo che richiede una grande quantità di dati e richiede soprattutto una gestione che sia efficace se la gestione di tutti questi aspetti magazzini attività di raccolta smistamento separazione riutilizzo non sono efficienti il rischio che la circolarità diventi dispendiosa e quindi di non imporsi nell'economia reale in questo senso ad esempio in questo settore delle infrastrutture l'intelligenza artificiale può essere fondamentale ad esempio mediante l'analisi l'elaborazione il riconoscimento delle immagini nella fase di smaltimento e di smontaggio degli oggetti e di riconoscimento dei materiali in questo slide e nella successiva ho elencato le tecniche di intelligenza artificiale che vengono utilizzate nel settore appunto nell'applicazione nell'ambito dell'economia circolare sono tecniche note vengono usate diciamo quella più ampiamente utilizzata è la machine learning cioè l'apprendimento automatico proprio per la sua capacità di apprendere attraverso i dati di elaborarli e attraverso modelli anche di consentire di fare previsioni la seconda tecnica è quella della rete neurale artificiale che può essere utilizzata ad esempio per classificare i rifiuti per il riciclo oppure tracciare il prodotto fino al fine vita un'applicazione delle reti neurali sono le reti neurali convoluzionali che si basano sulla elaborazione in sintesi delle immagini digitali che quindi possono essere utilizzate in fase di smaltimento e riciclo proprio per differenziare gli oggetti mentre l'analisi delle serie temporali è utilizzata prevalentemente per quanto riguarda le previsioni della domanda per esempio nel caso del settore alimentare ma anche di altri settori e quindi contribuisce a ridurre al minimo gli sprechi alimentari oppure sempre può essere impiegata per definire la manutenzione predittiva delle apparecchiature e quindi ridurre i costi di manutenzione ho trovato alcuni esempi che vi riporto di applicazioni concrete già reali di intelligenza artificiale nell'economia circolare i primi due esempi le prime due aziende si riferiscono al settore lavorano nell'ambito del settore tessile la prima ad esempio ha sviluppato un software che consente abbinato appunto all'intelligenza artificiale di ridurre i rifiuti tessili nella fase preconsumo cioè nella fase di produzione la seconda invece è un'azienda Gali che si basa che utilizza le cellule coltiva cotone da cellule in laboratorio in questo modo riducendo il consumo di acqua i rifiuti elettronici rappresentano sicuramente un valore molto elevato e un grosso problema pongono anche il problema insomma di recuperare in qualche modo metalli rari preziosi come litio e cobalto e quindi mentre oggi sono recuperati soltanto formalmente riciclati soltanto per il 20% ci sono le aziende che hanno lavorato in questo settore ad esempio la Apple ha sviluppato un robot in grado di scomporre l'iPhone in componenti riutilizzabili in 18 secondi e quindi recuperando anche metalli appunto come cobalto e platino Refine Technologies è un'azienda svedese che riesce a analizzare in modo preciso i componenti dei rifiuti elettronici mediante appunto un'ispezione visiva il progetto Oligreil invece utilizza delle filigrane digitali nei prodotti per facilitare la selezione dei materiali riciclabili a fine vita l'intelligenza artificiale poi può essere di grande supporto nella gestione dei processi industriali in particolare in relazione al consumo a riduzione dei consumi energetici alcune applicazioni di intelligenza artificiale riguardano anche il settore i consumatori attraverso delle app per esempio come le app Johncare è possibile fare correttamente la raccolta differenziata il volevo alla fine per concludere parlare della vedere l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel nostro processo nel processo di Tomapent nel nostro processo abbiamo alcuni punti critici il primo punto critico riguarda lo scarto appunto di pomodoro che per sua natura presenta una certa variabilità e quindi potrebbe essere dare problemi di stabilità microbiologica avere contenere dei contaminanti chimici o presentare problemi di odore stranei l'altro punto critico che abbiamo nel nostro processo riguarda la biodegradabilità del materiale da imballaggio che otteniamo che contiene la nostra bioresina la nostra cutina che si ottiene che si produce a partire dalla nostra cutina la cutina è biodegradabile ed è anche edibile il prodotto che contiene cutina che viene utilizzato per fare gli imballaggi subisce delle modificazioni chimiche che potrebbero comprometterne la biodegradabilità quindi è fondamentale poter valutare la biodegradabilità del prodotto finale in diverse condizioni venendo al primo problema lo abbiamo in qualche modo affrontato e mitigato in collaborazione con un'azienda spagnola utilizzando un'applicazione dell'intelligenza artificiale che ci ha consentito di mitigare gli impatti della variabilità appunto dicevo prima degli scatti di pomodoro in modo da garantire di ottenere una bioresina con uno standard di qualità accettabile e costante i modelli che abbiamo utilizzato ci forniscono un supporto decisionale per poter intervenire in tempo reale sul processo nel momento in cui il lotto potrebbe avere dei problemi e quindi intervenire attraverso degli aggiustamenti mediante appunto l'impiego dell'intelligenza artificiale così da riportare il prodotto all'interno della qualità standard come abbiamo realizzato questa applicazione abbiamo individuato nel nostro processo due punti due punti del processo legati ai parametri correlati alla qualità del prodotto ad esempio i solidi sospesi e il pH in questi punti abbiamo inserito degli analizzatori di questi parametri in linea cioè quindi questi parametri solidi sospesi e pH vengono misurati in linea in ovviamente in tempo reale abbiamo creato dei modelli chemiometrici utilizzando appunto il machine learning in modo da porrelare i parametri misurati con la qualità del nostro prodotto finale a questo punto abbiamo realizzato la nostra piattaforma di gestione abbiamo installato proprio la piattaforma di gestione dei dati e che come vedete in questa immagine è in grado di il cui cuore è un software Scadalit che è in grado di mediante applicazione di intelligenza artificiale di immagazzinare analizzare e fornire attraverso dei modelli delle previsioni di comportamento questo software gestisce tutti i dati che arrivano dagli analizzatori che abbiamo messo in linea e dalla PLC del nostro impianto e mettendoli insieme in grado di darci un supporto decisionale per l'impostazione del processo più adatto per ciascun lotto e quindi anche di intervenire per aggiustare il processo in base ai dati che monitoriamo in tempo reale la seconda applicazione come dicevo riguarda la biodegradabilità del prodotto del materiale da imballaggio che contiene la nostra bioresina ci sono dei test di biodegradabilità che sono previsti dalle norme in cui questi test valutano la biodegradabilità nel terreno il problema è che oggi abbiamo visto la dispersione dei materiali avviene in ambienti in scenari molto diversi e quindi per poter studiare in tempi rapidi condizioni di biodegradabilità diverse in collaborazione con un'azienda spagnola stiamo sviluppando dei sistemi di intelligenza artificiale che ci consentano di capire di approfondire i meccanismi di degradazione ma soprattutto di valutarli attraverso dei modelli di intelligenza artificiale in numerosi ambienti in numerose condizioni e quindi condizioni climatiche che possono essere polari temperate tropicali nel suolo in acqua in superficie nella massa quindi questo strumento ci permette di avere informazioni sulla biodegradabilità del prodotto senza ovviamente necessariamente dover analizzare in modo in laboratorio un numero infinito altissimo di variabili con dei costi inaccessibili in conclusione anche in base agli esempi riportati alla letteratura alla nostra esperienza sicuramente possiamo dire che l'intelligenza artificiale può contribuire e favorire la realizzazione della economia circolare ovviamente occorre tenere presente delle sfide i rischi che ci sono e che penso sono già stati affrontati durante queste conferenze legate appunto alla regolamentazione adeguata la sensibilizzazione all'azione culturale e nel caso specifico dell'economia circolare anche alla formazione continua e alla necessità di investimenti importanti per poter realizzare questa applicazione quello che penso sia credo sia fondamentale e che un'applicazione efficace per poter avere vantaggio dall'applicazione dell'economia dell'intelligenza artificiale nell'economia nell'ambito nel modello di economia circolare è necessario che l'economia circolare sia comunque sviluppata in ogni fase della vita del prodotto cioè in tutti i suoi aspetti perché se l'economia circolare non è sviluppata in ogni sua fase l'intelligenza artificiale non è in grado di svolgere il suo ruolo di acceleratore verso l'economia e la transizione all'economia circolare io ho finito e vi ringrazio ecco benissimo ringrazio Angela Montanari per questa interessantissima presentazione che credo che per chi seguirà questa presentazione sarà molto utile perché dimostra praticamente come si avvia un'impresa circolare e quindi usare poi tutti gli strumenti che l'intelligenza artificiale offre per migliorare e rendere competitiva questa questa impresa circolare è molto interessante perché potrebbe essere adottata da molti imprenditori allora però io arrivo al problema di base per creare diciamo l'impresa circolare o si impone per legge con le normative e quindi poi in un mondo globalizzato uno si trova di fronte ai prodotti che non sono circolari ma costano meno e quindi poi il consumatore si trova in una posizione in cui viene sfavorito in qualche modo oppure bisogna che si usino tutti gli strumenti e l'intelligenza artificiale per me è una grossa possibilità per rendere diciamo creare delle proiezioni credibili affinché gli imprenditori intraprendano delle imprese circolari sapendo che comunque ne trarranno degli utili e che quindi lo possono fare diciamo con qualche sicurezza in più e quindi diciamo invece di partire dal vietare si deve partire dal creare e quindi l'intelligenza artificiale che per certi versi ne sa più di noi e non è legata ai modelli diciamo che si sono sempre usati di cui sicuramente si ha molta informazione potrebbe darci questa libertà poi voglio fare un'asservazione che sembra che non c'entri niente ma invece c'entra adesso sto partecipando a una discussione su LinkedIn su queste famose bottiglie dell'acqua col tappo attaccato che per me è esattamente il contrario di quello che abbiamo detto fino adesso cioè bisogna progettare i prodotti affinché siano riciclabili e invece si creano dei link fra due plastiche diverse e quindi rendono la plastica non avviabile alla corretta filiera per cui se io voglio fare un piacere all'ambiente devo prendere la forbice e prima di metterne la plastica la bottiglia la devo separare quindi certe volte io non capisco su che dati si sia basata la comunità europea per prendere una decisione in questo senso che secondo me io non è che vedo questi tappi dispersi io vedo disperso tutto il resto quindi voglio dire non lo so come la pensino le persone che hanno diciamo avviato questa norma ma per me è assurda concludo se qualcuno ha qualche domanda ovviamente ma più che una domanda è una consolazione diciamo vedere come dire che effettivamente questo potenziale meraviglioso che io sono una innamorata delle tecnologie come sanno alcuni dei presenti però tutti gli interventi che abbiamo fatto fino adesso o buona parte degli interventi è tutto un alert no a questa cosa dell'intelligenza artificiale eccetera che provoca rivoluzioni perdite di posti di lavoro e così via che è anche vero ma è soprattutto perché secondo me non vengono promossi non vengono fatti conoscere non c'è una cultura di base che può in qualche modo favorire queste 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 iniziative che sono come queste stavo guardando il sito anche no di e faccio i complimenti alla Angela no del sito di Tomapaint e cioè queste cose dovrebbero avere una promozione molto più 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 forte e che i grandi imprenditori allora qua non si c'è come dire questa è una piccola impresa ho visto uno srl non so in quanti siete e così via non so chi fa i programmi se all'interno del vostro nucleo aziendale e ci sono proprio gli sviluppatori o se vi avvalete di una serie di rete di tecnici e così via che 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 vi testa e vi produce il software giusto sono anche un po' curiosa di sapere come siete pervenuti a un uso così massiccio allora l'idea di base immagino che sarà stata quella appunto di attivare un modello di economia circolare mi piacerebbe capire anche proprio per avere una sorta di esempio positivo da proporre anche quando parliamo nelle scuole se volete si può fare insomma ecco per cui sarei curiosa di capire come siete nati i tools che avete utilizzato più o meno lo hai detto però anche le collaborazioni che avete attivato allora sì siamo nati come il risultato non l'ho detto nella presentazione il risultato di circa una decina di anni di attività di ricerca io appunto lavoravo in un ente di ricerca pubblico e quindi abbiamo sviluppato il diciamo il processo a livello di laboratore poi di pianto pilota all'interno di questo centro di ricerca grazie anche a finanziamenti europei e abbiamo al termine di questo percorso abbiamo fondato una startup innovativa con altri ma le soci e con la startup innovativa siamo ancora in pochi siamo in sei persone quindi perché stiamo entrando adesso sul mercato e abbiamo diciamo partecipato degli acceleratori della regionale e nazionali ma soprattutto siamo riuscite ad arrivare alla realizzazione dell'impianto perché abbiamo vinto un bando Horizon che ci ha consentito di costruire l'impianto non abbiamo le risorse interne per la progettazione quindi ci siamo rivolti a un'azienda esterna che diciamo che in particolare l'applicazione di intelligenza artificiale nasce da una collaborazione nell'ambito di un progetto europeo con un centro di ricerca spagnolo quindi nasce in questo modo mentre sì mi ricordo l'altra domanda direi che sì no la produzione di software che utilizzate i test eccetera li fate all'interno dell'azienda avete degli altri partner eccetera allora il software come dicevo l'hanno prodotto sia questo centro di ricerca spagnolo sia un'azienda di ingegneria a cui ci siamo rivolti i test li facciamo internamente sempre collaborazione con loro ma soprattutto in questi anni abbiamo attivato collaborazioni con università con diverse università sia italiane che straniere con cui collaboriamo perché è fondamentale nel giro della ricerca praticamente sempre nel giro della ricerca sì devo dire che abbiamo trovato in questi anni collaborazione anche con nostri potenziali nostri clienti ancora industrie chimiche abbastanza grandi che però sono stati disponibili anche a fare una parte di ricerca al loro interno quindi dalla collaborazione con loro per esempio è nata l'applicazione sulla carta che è diventata quasi una necessità visto l'emanazione del regolamento sulla plastica in monouso quindi la necessità di spostarsi dalla plastica alla carta questo ha spinto questa azienda a collaborare con noi certo sì che poi è anche quasi una questione casuale no? quello che succede sì no assolutamente casuale infatti il tutto è nato casualmente allora questo va bene perché sicuramente però appunto io ho un'amica carissima che è la Lucia Gardossi che ha vinto qualche anno fa il premio tecnovisionari è quello promosso da Women in Tech e che ha fatto un'altra cosa del genere lei è biochimica e ha è cofondatrice di anche costruisce materie plastiche biodegradabili qui all'università di Trieste io sono o qua a Trieste però appunto rimane moltissimo mi pare che voi siete più avanzati proprio a livello industriale anche perché c'è un contesto non da poco che vi supporta no? ecco però noi abbiamo l'area di ricerca abbiamo tutta una serie di cose però si rimane un po' nel circuito universitario nel circuito della ricerca nel circuito dei progetti europei che se arrivano poi ulteriori fondi si va avanti se no c'è rischio di non andare avanti per cui fragilità mi viene da dire no? sì assolutamente infatti anche io ho lavorato su tanti altri scarti e solo questo siamo riusciti a portarlo da livello di laboratorio a livello industriale a livello industriale di piccole industrie certamente ad esempio il mondo finanziario non ci aiuta cioè il credito gli investitori per esempio assolutamente assolutamente no proprio non c'è disponibilità non ci sono agevolazioni ecco quindi questo crea un po' di difficoltà questo è un punto critico no? sì perché poi si ha bisogno di tutto un un ambaradà non da poco in modo tale da ma secondo me è anche proprio di divulgare come dire il concetto che si può fare che si può fare che c'è però dando anche supporti un po' come le start up anche non di questo tipo che dopo tre anni chiudono e magari hanno avuto un'idea geniale no? la maggior parte di queste tra l'altro io ho notato sono ideate da donne e anche questo secondo me ha una sua una sua valenza di fatto qua in area di ricerca una start up che sta andando divinamente e che sta travalicando anche perché è stata invitata in America eccetera è una start up che si chiama Aindo la quale utilizza l'intelligenza artificiale per spogliare dei dati sensibili e tutti i dati relativi a qualunque campo per cui crea delle basi di test veritiere e non su dati falsi diciamo inventati e così via ed è fatta da dieci ragazzi loro stanno riuscendo ad andare avanti noi speriamo no no beh ma insomma mi pare che le premesse che avete sono l'ideale sarebbe che l'industria a un certo punto di fronte a certi bisogni che si creano acquisisse diciamo queste start up come una ricerca quindi voglio dire ma facesse proprio esatto ma come magari un po' succede acquisisca il modello proprio il modello proprio il modello strutturale il modello organizzativo che qualcuno abbia fatto dalla ricerca in quel campo che gli può servire quindi è chiaro invece spesso non succede è anche difficile secondo me far incontrare queste due realtà perché sì assolutamente assolutamente per cui veramente sono molto contenta di avervi conosciuto grazie e lo porterò in giro nei miei vari seminari e così via insomma ecco bene allora se non ci sono altri interventi altre domande Pinuccia Pinuccia io volevo solo dire che da un lato appunto mentre noi parliamo di economia circolare invece l'esperienza appunto di Dio Pampè è un'esperienza pratica e concreta che si realizza appunto e questo naturalmente è molto importante perché soprattutto utilizza questi scarti che se no sarebbero appunto andrebbero a danneggiare l'ambiente ma allora io dico ma a livello generale è mai possibile che anche la politica non riesca a capire come noi abbiamo delle regioni che sono regioni prevalentemente agricole che invece di buttare i loro rifiuti potrebbero trasformarli appunto in una risorsa e non si fa nulla perché sappiamo che da un lato cioè la politica sta facendo anzi sta arretrando rispetto appunto a queste prospettive e quindi questo è il primo punto il secondo punto è anche appunto l'economia oggi è ancora un'economia assolutamente lineare cioè tutto quello che abbiamo visto invece in questo processo che è una rivoluzione è un grande cambiamento di fatto noi vediamo che invece non si realizza nelle attività di imprese cioè le attività di imprese fanno ragionano appunto in base ai costi in base a quello che è poi i consumi l'impatto sull'ambiente è l'ultimo problema ma non gliene frega niente poi non gliene frega niente poi cottano casomai questo tipo di soluzioni e l'altro tema che voglio fare è quello è quello della oltre che appunto la politica l'industria la politica che non fa nulla l'industria che continua sulla strada dell'economia dell'economia lineare e noi che ci diciamo che cerchiamo di quantomeno di rilanciare di fare anche vedere concretamente come le nostre non sono solo parole ma sono appunto azioni concrete che possono rappresentare una riconversione industriale perché il modello se il modello appunto fosse un modello esteso a tutti i settori cioè ma sarebbe veramente un grande cambiamento una rivoluzione una rivoluzione quindi cioè quello che io mi domando è siamo sempre purtroppo in questa situazione in cui chi dovrebbe assumere le decisioni vere non lo fa ecco la mia considerazione diciamo però fra di noi non esce diciamo da certi ambiti e quindi no no ma infatti la promozione e anche il vedere come concretamente le cose si possono fare secondo me è molto importante vedo che anche le mani alzate a Luigi tolgo la mia intanto ho imparato un sacco di cose ringrazio Angela che non conoscevo conoscevo solo Pinuccia e quindi e quindi sono molto molto contento di quando ho visto economia circolare e e la intelligenza artificiale ho detto sta a vedere che riesco a capire qualcosa come aveva appunto detto all'inizio che sull'economia sull'intelligenza artificiale magari se ci fosse un piccolo riassuntino da chi metta fuoco che cos'è in effetti non sarebbe male detto questo la parola chiave è l'ultima che ha citato Pinuccia la politica ora che ci sia un quadro desolante sono il primo a piangere io ho scritto due libri politica e costituzionale per le riforme se qualcuno interessa glielo mando per in pdf ormai non ce n'è più cartaceo e l'ultimo è l'identità dei partiti al vaglio della costituzione ora assolutamente quello cartaceo scrivetemi ve lo mando in dentro una busta ora la questione è che ci sono alcuni partiti che sono particolarmente dedicati al nostro ambito voglio dire io sono un dirigente modestissimo di Europa Verde Liguria e praticamente tutto quello che esce fuori da questo cornucopia di costituto su cose concrete come questa è materiale è materiale da riuscire a far passare almeno in quei settori lì se c'è qualcun altro che ha sensibilità ecologiche io sono sfegatato sapete ho detto che per me la costituzione è la mia stella polare ultimamente due anni fa ricordo a tutti sempre costantemente c'è anche un bel articolo di Pievani su Micromega l'ultimo numero numero 1 su le modifiche di costituzione articolo 9 articolo 41 che sono apparse due anni fa credo che anche questo dovrebbe essere per noi conforto ma naturalmente so che la costituzione italiana nel suo insieme è in freezer quindi non è l'articolo 9 l'articolo 41 che è apparso che improvvisamente dominerà la strada però abbiamo delle delle autostrade che parlano dell'Europa tutte queste aiuti che ho sentito che sono arrivate dobbiamo assolutamente combinato e disposto costituzione e direttive e tutto quanto il programma che ci ha addirittura un programma della Commissione Europea il Parlamento concorda con che essa quindi noi ci possiamo inserire e se c'è un obiettivo io sono anche qui un'altra mia fissazione intervento che seguo come equestituto sono le comunità energetiche europee ma questa del riciclo dell'economia circolare e cavolo sono diciamo un altro settore incredibilmente ampio quindi se riusciamo a formulare un pacchetto di proposte una volta che l'abbiamo formulato magari se un SOS in una bottiglia buttato da un afrago ma voglio dire comunque il collegamento questa produzione di competenze straordinarie non devono rimanere al nostro interno almeno metterle fuori so che in questa fase un mese e mezzo giù tutti sono furiosamente propesi per le elezioni europee e io dico che sono giusto un mesotto e mezzo che due poi a fine 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 elezioni si può se siete d'accordo se c'è qualcuno che pensa che questa idea di fare un pacchettino di proposte magari noi le possiamo mandare ai nostri capigruppo di questo e quella io sono sicuro che Europa Verde e Sinistra Italiana che hanno ormai trovato un ticket virtuoso come mi piace chiamarlo il Rosso Verde dovrebbero essere interessati e se poi se ne sarà qualcun altro tanto di guadagnato io non sono invidioso né geloso se altri dovessero pensare di mettere mano a questa dare una proposta di legge o qualcosa in Parlamento dobbiamo fare assolutamente rompere questo diaframma tra chi ne sa professionalmente come il bagaglio di questo istituto ha dimostrato di passare a chi ha le mani in pasta e che può fare legge ho sentito dire manca una legge se potrebbe chi ha l'idea chiare su quello che potrebbe proporre di utile sull'economia circolare lo presenti io appena appena un riscontro nel mio piccolo farò del mio meglio per passare l'informazione anche di dovere vi ringrazio ancora di tutto cuore per quello che ho imparato grazie c'è Marco vedo ok ciao a tutti abbassiamo la mano ok io avevo una domanda che è probabilmente ingenua e quindi sarà sciocca però mi domandavo per poter sviluppare maggiormente in generale l'economia circolare visto che è lato negativo che rispetto all'economia lineare che spreca spande e rovina ha dei costi che che sono un po' maggiori se sia possibile utilizzare un meccanismo che sia il reciproco rispetto a quello dell'ETS l'ETS ti permette di calcolare quali sono le emissioni di CO2 e teoricamente di tassarle la domanda è è possibile calcolare in un modo relativamente semplice ma certificabile quali sono i risparmi di CO2 dei vari step di economia circolare e a questo punto finanziarli sovvenzionarli utilizzando i soldi arrivati da chi invece ne emette o comunque in qualche altro modo quindi per riuscire a colmare questo gap di costi verso il mercato che permetta di sviluppare economia circolare invece che lineare so che è una domanda banale però mi domando se si possa usare grazie si può si può calcolare in effetti molto forse sono stato molto rapido presentato un dato di risparmio di CO2 nel nostro processo nella fase proprio nostra di estrazione dalle bucce di pomodoro fino all'ottenimento del prodotto cutina è un dato che abbiamo calcolato utilizzando il software LCA ma che ci è stato certificato dall'Impact Forecast che è un'organizzazione europea quindi si è possibile calcolarlo noi l'abbiamo calcolato nella prima fase ma è possibile calcolarlo fino al prodotto finale considerando anche gli smaltimenti quindi sicuramente sì potrebbe essere effettivamente un incentivo interessante cioè una detassazione in relazione alla quantità di CO2 che uno evita di mettere nell'ambiente quindi la prima proposta che chiedeva Luigi ecco lì che ce l'ha sul tavolo sì io non ho alzato la mano ma mi porge la parola come al solito il Marco pensiamo seriamente di fare un pacchettino puntare sull'economia circolare per alcune forze politiche lavoro e ambiente sono le due condizioni le due pilastri su cui partire e naturalmente qualcuno deve citare l'Europa il PNR e dopodiché dire che in concreto ci possono essere queste cose qua bisogna che la politica si dia una mossa sull'ambito economico e che diventi virtuoso e dopodiché voglio dire prodotto finito settembre ottobre novembre si può provare a fare politica che mi pare come diceva il quello che prete diceva che bisogna poi tutti insieme fare politica scusate se mi sono ripreso la parola no mi domandavo se anche l'aspetto energetico visto che Enzo che è un esperto di energia no perché anche quello oltre a come diceva Marco il risparmio di CO2 ma anche in termini energetici non so se possa fare una valutazione anche in termini energetici interessante appunto rispetto ai processi dell'economia circolare fermo restando che non ho detto prima che comunque trovo entusiasmante l'idea dell'intelligenza artificiale applicata in questo modo questo però ci vorrebbe molta formazione perché non credo che siano in tanti poi nelle imprese scusa rispetto alla parte energetica ad esempio noi nel nostro processo siccome comunque questi processi richiedono energia stiamo utilizzando energia da fonte rinnovabile nel senso usiamo energia elettrica da fotovoltaico e utilizziamo il calore per la parte termica il calore che proviene da un impianto di biogas che c'è vicino al nostro impianto quindi per chiudere anche un po' la circolarità che notizie formidabili completo a tutto campo volevo dire a Marco che il discorso degli ETS ad esempio in diciamo per quanto riguarda il traffico navale sta sentendo anche certi armatori li sta arricchendo perché hanno l'hanno riversati ampiamente sui clienti sui coloro che usano il servizio questa è una polemica che è in corso non so se diciamo sia stata fatta tartatamente o no ma comunque sembra che sia proprio così che questi furbacchioni abbiano trovato il sistema in pratica di trarre vantaggio da quello che dovrebbe essere poi invece un fondo che permette di sgravare di esempio dell'accise dell'energia elettrica in banchina l'idea era quella e invece sembra che tutto sommato ne stiano traendo profitto ora per quanto riguarda l'energia non so cosa dire perché chiaramente se utilizzate dell'energia rinnovabile tanti complimenti penso che chi realizza un impianto oggigiorno dovrebbe mettersi sempre questo obiettivo di utilizzare energie rinnovabili perché ne ha tutti i vantaggi da un certo punto di vista è che non non mi sembra che siano tutti orientati purtroppo in questa in questa direzione tant'è vero che si stanno cercando anche a livello di grossi impianti delle scappatoie come poi ci dirà Marco Lobardi in futuro parlando della CCS e niente io mi complimento per contenuti che ho sentito oggi anch'io devo dire che ho imparato diverse cose concludiamo qui questo incontro che è stato utile per noi che c'eravamo e speriamo anche per quelli che vedranno indifferita questa registrazione ringrazio anche Giovanna Sartori che vedo per mi pare forse la prima volta e quindi ringrazio di cuore perché mi nascondo sempre quando ci sono le ringrazioni ecco allora è vero che stavolta si è apparita adesso ci sono grazie per l'introduzione e se hai una velina sull'intelligenza artificiale come farebbe wikipedia mandacela c'è wikipedia no no io io ti consiglio di iscriverti all'intelligenza artificiale di chat gpt o gemini e gli chiedi che cos'è l'intelligenza artificiale e vedi cosa ti risponde guarda io credo di avere già tante di quelle chat avere tanto di quelle robe che naturalmente quella non è una chat quella è l'intelligenza artificiale va bene allora web sito quello che vuoi sinceramente faccio se qualcuno no se qualcuno mi fa una sintesi una velina ho detto una velina una paginetta grazie ringrazio va bene allora saluto tutti ringrazio tutti e alla prossima per tempo arrivederci grazie 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 mille grazie buona serata a tutti buona serata grazie a voi